Ehi, ciao a tutti ragazzi qua da GameShadow, oggi siamo in un nuovo video, oggi siamo in un altro video dedicato ai Fortnite di Fortnite Oggi andiamo a vedere il numero di 34 che si trova tra la forchetta e il coltello E forchetta e il coltello è sempre lo stesso, andiamo subito in game e vi faccio vedere dove sta Ragazzi mi scuso per la voce ma ho un maldico l'assurdo perchè ho dormito sotto al condizionatore Però il Fortnite sta qui sopra, no, qui sotto, ok Sta in mezzo tra queste due, ma mi sono dovuto spostare in creativa perchè mi hanno ammazzato Ed è improponibile Comunque si va verso la forchetta, si scende Fino verso di qua E qui si troverà il fourth belt Allora ragazzi se volete commentare come potete iscrivervi se non l'avete fatto mettere un bel pollice in su Per il continuo della serie e noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti